Tutto pronto, tutto pronto, dove si guardano, e si ultano, e si ultano, Alexander e Slegon Attenzione, veramente, non mi sembra che sia un match con le squadistiche Attenzione, Slegon è venuto qui ma deve pensare a difendersi da tutti, non solo dagli altri da Non manda Alexander, ma Alexander è grosso, mamma mia ragazzi, non so se Slegon è più grosso Slegon, no, non credo, Andrea, Andrea, Slegon non riesce a fare nulla Eh, adesso prima, guarda che sia subito, l'allontana, mamma mia Che potenza Alexander è caricissimo, veramente, Slegon dice, eh, pensa che sta a dire Aspetta, fammi prendere una bocca alla d'aria Guarda Alexander che sponde via, guarda anche Slegon da, se ne sta fuori, almeno entro fino al quindicesimo minuto E dice, eh, no, Alexander non c'è, ma era una trappola Era una trappola, attenzione, non c'era neanche il conteggio fuori Uh, Alexander, via Eglia, povera, testata Ricordiamolo che Baria ha vinto l'aprivo il primo scramble match E Baria sarà partecipato Ricordiamo che Baria è lo stesso che ha battuto a Brestal Mania Alexander, però, nel meno differenitualmente Eh sì, attenzione qua, Alexander ancora lo prende Slegon profilo riversa, attenzione ancora, niente Alexander, bollislam Ah, mia, aia E' da qui Oh, mio Dio, a Stavis e Bario Aia, fuori da ringo, fa molto bene Eh, più che, eh, Stavis e Fire, una rolling carter Eh sì Per una serie di pugni, dritto al volto Questa è Slegon, no Attenzione Uh, con tre gradoni, attenzione, ma c'è la squadifica E se hai fatto la squadra, questo tipo di match non fa E con Slegon se la gioca, se la gioca qua Comunque per scolipi, adesso mantenga il titolo Sì Alexander se la gioca Uh, non c'è la squadifica Attenzione Oh, mio Dio, enough with the step Mamma mia, con Alexander, lo sta massacrando, lo sta massacrando Slegon, rientra su Ring Slegon No, che ha preso No, Alexander's power Poterete Alessandro Non ti credo Mamma mia, ragazzi T'è informissimo, Alexander Tutti a casa qui Incredibile Uno, due e tre Se Slegon non è più campione al momento Eh beh, se dovessi chiedere così L'Erbro inviazza anche il braccio Eh sì, deve farlo perché dimostra che Alexander è colui che viene la cintura Attualmente, diciamo Eh sì Uh, ancora Eh, ma Alexander ancora non serve che lo schiena ancora No, però lo installa Alexander È il nuovo Alexander adesso è campione Eh sì Attenzione, Alexander adesso è campione Sta strisciando Eh, le corde sono lontane E allora Slegon qui Mamma mia, va lontana E qua German Suplex Attenzione che manca un minuto e 15 secondi Prima che arrivi il prossimo contendente E vi vediamo per essere un minuto Allora, Mancio, Varia E Dante Eh già Se ne Slegon qui Una serie di calci Veloce Forse vuole sbrigarsi Slegon Se la gioca Se la gioca Se la gioca lì Aia Anche fa Alexander No Alexander Non ti è parkering Puoi fare No Alexander Oh Il nuovo Slegon Sì, il nuovo è semplice Può essere eseguita anche Attenzione però qui Slegon lo va a prendere Mi dà una streccia Attenzione Qua niente a fare E lo lascia Ancora qui Slegon Un calcio dritto Venta ancora Ah, sbaglia qua Sbaglia, sbaglia Slegon dovrà A fare l'arrivo Slegon lo viva a rialzarsi Dai su Che capiscono Il gong E lo mantiene nascosto Alexander non lo vede No Non ci credo Ma che bastardo Slegon Uno su uno È incredibile Alexander non ci sta No, veramente è incredibile Questa È incredibile Ancora Stavolta dice basta Eh sì Attenzione Nuo in red Dante Dante C'è distensione Ancora Ancora Slegon Col gong C'è Dante Dante Qua attenzione C'è Kammer C'è Kammer Niente a fare Uuuuh Mamma mia ragazzi Ha rischiato moltissimo Alexander si vende Uore di Dante Attenzione Back suplex Aia Uore si chiama C'è Kammer Iniezione Konstar Niente a fare Konstar Niente a fare Niente a fare Niente a fare Konstar Ce l'ha C'è l'attenzione No Niente a fare Slegon interviene Perché sono fatto davanti Allora Attenzione Oh nice Oh attenzione Oh ancora Sul Oh sul gong 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 Attenzione Gong No niente a fare Niente a fare Konstar Che ti viene Oh Gong Star Ce l'ha Eh si Stavante fatta Sì Alexander Attenzione Alexander Oh bulldog Su Dante Ema Vediamo che si inventa Adesso Attenzione Oddio Non male Oddio Non male Ma molto male Ma attenzione Oh Oh Mamma mia Slegon Non male Non male Oh 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 Attenzione big moves coming vuole schierare l'Alexander uno non c'era l'Alexander era una maschera di sample ma attenzione e niente da quale c'è Dante eh ma anche Dante qua poteva aspettare uh neckbreaker di Dante azioni un po' confuse confuse? e attenzione attenzione che fa Slecon e si meta suplex non neckbreaker ah si e poi qui Jack Hammer ecco è finita qui Dante attenzione la schiena la schiena Alexander non si accorge uno due ah no non ci arriva per poco Alexander poco e due attenzione che fa Alexander? attenzione Slecon oh Alexander Spauwell su Dante che si è qui Slecon o no? oh lo può schienare è finita Dante non può rialzarsi dai uno due oh no c'è Dante di che fatto? oh 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 mamma mia ragazzi Slecon ma con il tiro il Kong è volato via la tua schiena il Kong è volato via hai visto? attenzione Man barra da parte di Dante E manca pochissimo Andrea al prossimo Si un minuto al prossimo ingresso Oh attenzione Foxlane di Asleba Potrebbe schienare Attenzione Standard Standard di Dante su Oxlane Andate a voler diventare campione No interviene Asleba Che fa? Lo schiena urlo Due Tre Non ci credo Sono campione C'è La maschina La teosica è pronta Ma c'è Che fa l'arbitro? E beh toglia il sedio Ma perché? Ma perché è giusto così Ma non è giusto Dai Alexander No Non è giusto Che fa? Guarda tu sai che sono un po' di fante perché Dopo la rubata a Victor Les Lathons non è missa più molto simpatico Ammetto che non è l'Enderlater Ma Se non è quell'Alessander Attenzione di tanti di rapina Eh Cold Star Alexander qui deve aspettare secondo me Un momento più opportuno Altre Slego deve difendere il risultato Un braccio teso Però Attenzione Arriva Mancio Eh Mancio è un po' di tante Arriva anche Cold Mancio E si aggiunge la competizione Ora ricordiamo L'Alessander è libera il ring Nella presenza di Slego Ricordiamo che al momento Slego è tornato campione Perché Il pescidamento su Alexander O Dati È un momento di... È già Alexander è giusto Un'altra presenza di Slego è un'altra presenza di Slego E' già un pioce Avanti Intanto si riesce a commentare a me la pena questo cosiddetto Ma questo è un momento di polizia che c'era un zampino Vuoi distrarre Attenzione intanto, Alexander Power Non ci credo Fuori dai campioni? Noo Uno Due E' arrivato E' per quel Jack Amber E' stato davanti a Serra Ma adesso Che fatica Lo aspetta ancora Al barco Ma stai con perchè non ti rascinare Ma non capisci Attenzione E' qui che fa come dire Alexander Noo Pulmancio è felice Vediamo Vediamo una grande faida Tra Pulmancio e Alexander Non c'è Non ci penso E' qui che è il gioco E' qui che fa come dire E' un po' di gioco Non ci credo! Eh! Attenzione! Polmancio è il campione momentaneo! Mamma mia! Ancora! Non ci credo, Polmancio è il campione momentaneo! Qui Slecon, ve l'ho detto! La musica ha distratto da Slecon! Mamma mia ragazzi! Here we go! Attenzione! Attenzione! Attenzione qui! Slecon, riguarda adesso Mancio è il campione! Eh ma Alexander guarda subito... Questo amore! Attenzione! Alexander Spavor! Attenzione! Schiamamento! Attenzione! Non manda fuori! Ma c'è anche davanti e ora Mancio si era alzato! Attenzione! Qui è scatenantissimo Alexander! German suplex di Slecon! Mamma mia ragazzi! Ancora! Rolling cutter! Rolling cutter! Attenzione c'è anche il gongo! C'è il gongo che non lo apete! Ragazzi ha rischiato il corso di Slecon! Oh! Attenzione! Mancio il campione! Inutile! Eh infatti! Hai veramente ragione! 5 minuti! Mancano... 20 secondi! Attenzione! Supra Copic Drop! Eh si! Fa lo schiamamento! Eh no break! Eh già! Mancio al momento! Di nuovo campione! Sarò un ex campione del WBF! Ma attenzione! Puoi scendere! Puoi scendere! Non ci credo! Non ci credo! Victory Roll! Ma... Mancio ancora i campioni! Oh! Oh! Rolling cutter! Oh! Che ma... Ringroli!